Questo sabato mattina nel Tempio di San Di Colò nella città e nella Diocesi di Treviso ha ricevuto il Sacramento dell'Ordinazione il nostro Vescovo Adriano che poi entrerà, farà l'ingresso ufficiale nella nostra Diocesi l'11 ottobre. Vorremmo entrare nel cuore del Sacramento dell'Ordinazione, quindi nel cuore del dono che è il servizio episcopale, mettendo la nostra attenzione sul centro del rito dell'Ordinazione del Vescovo. Proprio perché nel rito dell'Ordinazione del Vescovo viene in evidenza una cosa che è tipica di tutta la vita cristiana e della vita della fede, ma qui viene in evidenza in modo particolarmente chiaro, che all'inizio di ogni attività nella Chiesa, di ogni servizio nella Chiesa, di ogni posto che si occupa nella Chiesa, c'è il dono. E il dono, un dono che va intensamente invocato, è un dono dall'alto ed è il dono l'opera dello Spirito Santo, l'attività dello Spirito Santo. Questo è il cuore del rito, che nel Sacramento dell'Ordinazione episcopale ha due momenti. L'imposizione delle mani da parte del Vescovo e dei Vescovi consacranti, che è sempre almeno il numero di tre, e poi anche degli altri Vescovi presenti, a significare la comunione, perché questo dono intensamente invocato raggiunge la sua efficacia se è invocato nella comunione della Chiesa. E il secondo momento è la preghiera di ordinazione del Vescovo con imposizione del Libro dei Vangeli sul capo del Vescovo che viene ordinato. E questa è anche una novità, è un segno unico, questa imposizione dell'Evangeliario, del Libro dei Vangeli, sul suo capo durante la significativa bella preghiera di ordinazione. Anche questo significa che all'inizio ci sta il dono, il dono che viene dall'alto, che è prima di noi, è fuori di noi, ma è donato a noi, è per questo battezzato presbitero che viene ora ordinato Vescovo. E l'invocazione intensa permette che sia, che possa abitare in lui. E questa è la dinamica dell'esperienza del dono. Il dono è un dono che è fuori di noi, ma è destinato a noi ed è perché raggiunga l'in noi della nostra esperienza, venga proprio personalizzato, perché possa essere al servizio di tutti. E per significare questo c'è il grande e bellissimo gesto dell'imposizione delle mani, che anche in questo caso, come nella maggior parte dei casi, avviene in silenzio. La sospensione delle parole umane, anche delle parole ecclesiali, è molto eloquente, perché dice che qui che opera è lo spirito, con la sua forza. È lo spirito che parla sempre in modo ineffabile e noi col silenzio ospitiamo questa ineffabilità dello spirito, che vuol dire una parola oltre alle parole che genera tutte le nostre stesse parole. E l'invocazione, mediante l'imposizione delle mani, dice che si vorrebbe quasi ospitare tutta la grazia del cielo perché possa abitare nella corpo e nell'esistenza e nella storia di questa persona. Ma dice anche nello stesso tempo, il gesto stesso lo dice, protezione. È come un tetto su questa esistenza, che protegge dalle intemperi, dalle nocività delle tempeste, ma nello stesso tempo, oltre che protezione, è anche protensione. Quasi apre a uno slancio, apre al futuro, perché spinge in avanti. È un gesto quindi ricco. Accoglierlo in silenzio, parteciparvi con la preghiera orante, è il nostro modo per vivere intensamente questo momento. Il secondo, che appartiene sempre al cuore del sacramento dell'ordinazione, secondo momento, è la preghiera di ordinazione con imposizione del libro dei Vangeli sul capo dell'ordinando. Due diaconi reccono il libro dei Vangeli aperto, che appoggia sulla testa dell'ordinando, quasi a simbolizzare che la potenza dello Spirito Santo diventa potenza del suo servizio principale, che è quello di essere annunciatore del Vangelo, perché davvero il Vescovo sia sotto la parola, animato dalla parola, mosso dalla parola. Questo è il suo modo specifico di esercitare il suo potere, di reggere il popolo, di governare il popolo, perché è la stessa parola il Vangelo di Gesù, con cui Gesù, che parlava in modo autorevole, guariva anche i malati, accoglieva i percatori, perdonava, aiutava i poveri e si metteva a cena con i suoi discepoli. Ascoltiamo qualche aspetto di questa bellissima preghiera. È un'invocazione al Padre perché volga lo sguardo su tutte le creature, in particolare su questo eletto che è costituito capo e sacerdote e dice questa espressione, per non lasciare mai senza ministero il tuo popolo, per non lasciare mai privo di quello che è indispensabile per vivere la fede, il popolo cristiano. E allora il momento centrale di questa preghiera è quando tutti i Vescovi consacranti intervengono, è questo, effondi ora sopra questo eletto la potenza che viene da te, o Padre, il tuo Spirito. È l'invocazione dello Spirito che regge e guida. Qui c'è un riferimento anche al Veni Creator Spiritus che viene cantato proprio all'inizio della celebrazione, Dottore sic te previum, previo e vitemus omne noxium. Dottore sic te previo vitemus omne noxium. Se tu, Spirito Santo, sei davanti che ci guida e ci conduce, il popolo e tutti noi eviteremo tutto ciò che è nocivo alla fede e alla vita. Ecco in che senso il Vescovo regge la sua comunità. La regge con la potenza dello Spirito è che è quello che ci precede, ci accompagna e impedisce che tutto ciò che è nocivo contagi la comunità e l'umanità. Questa è la sua forza, ma è una forza ricevuta, è la forza che viene dallo Spirito Santo. A questo punto si esprime meglio questo potere di reggere, di governare, di guidare, che è quello di passere il gregge come il buon pastore. Ma c'è l'espressione il tuo santo gregge, vuol dire il gregge, il popolo è sempre del Signore. Alla fine di questa preghiera c'è quasi l'invocazione diventa supplica perché il consacrato si coinvolga totalmente. Difatti dice egli ti serva notte e giorno, esige un coinvolgimento totale e poi per la mansuetudine e la purezza di cuore sia lui sia un'offerta viva a te gradita, uno stile di vita che corrisponda al dono ricevuto. Quindi è un potere che viene dall'alto, che consiste nel precedere il popolo e nell'accompagnarlo per evitare ogni male, ma è per dare ogni bene, che deve essere esercitato con la totalità della proprio coinvolgimento e con uno stile particolare, che è lo stile di Gesù, che è mite e umile di cuore. È con grande entusiasmo che stiamo attendendo Monsignor Cevolotto. Davvero noi con affetto cerchiamo di far capire come questa comunità abbia questa attesa nei suoi confronti, che è l'attesa di andare anche in continuità con quei temi a noi molto cari, che ci sono stati insegnati nel mandato del Vescovo Ambrosio e che sono stati quelli del senso di comunità, dell'accoglienza, del relazionarsi e aver appreso dalle parole del nostro Vescovo Cevolotto che una delle caratteristiche, diciamo, delle cose cui tiene di più è fare i cammini insieme alla comunità ci ha davvero scaldato il cuore, devo dire la verità, soprattutto per noi che siamo comunità ferita per la pandemia che abbiamo subito, per i lutti che abbiamo subito, quindi una comunità che è ancora molto sofferente e avere quindi già questa attenzione nel dialogo, nella relazione, nel condividere, nella coesione sociale. C'è tutti quei temi a noi molto cari che abbiamo avuto la possibilità davvero di sperimentare con mano nel mandato del predecessore e che adesso noi vorremmo davvero condividere nella continuità di quello che sarà il mandato di Monsignor Cevolotto. So che nel momento in cui arriverà a Piacenza sarà accolto da una comunità festosa che lo sta aspettando, che lo sta attendendo, una comunità che sa dare grande affetto, che è molto generosa nella riservatezza ma con la quale, non ho dubbi, potrà lavorare da subito in perfetta sintonia. Quindi un augurio di buon lavoro e davvero un affettuoso saluto e abbraccio da parte di tutta la comunità piacentina. Allora il desiderio che io ho è che questo Vescovo possa sentirsi anche lui subito parte di una squadra dove è fondamentale quello che lui indicherà per i percorsi che sono i percorsi che danno la speranza, il coraggio, la forza e la determinazione di portare avanti quello che noi istituzioni, diciamo nella nostra quotidianità, abbiamo come programmazione ma che sostanzialmente se non è accompagnato dal percorso di fede e da quella che è davvero una guida morale come quella del nostro Vescovo poi sono sempre difficili da realizzare. L'augurio più sincero è quello che lui possa sentire subito dal primo momento tutto l'affetto che davvero noi già proviamo per lui e che magari a volte per riservatezza non siamo in grado di esprimere subito ma assicuro che vorrei che lui sentisse da subito questo augurio, l'augurio di essere circondate da persone che li vogliono già molto bene.